ok continuiamo il capitolo 2 c'è nulla dovrebbe aiutare a rompere l'acqua con quelli che ci trovi Queen's Blood? ok c'è un gioco buongiorno, sr. mi devo rinforzare per non mi rinforzare a te prima prima io sono Brodin, la proprietà di questo inn i nostri compagni hanno entrato oh, ma Barrett ha lasciato un messaggio che mi chiede a passare a te hai perduto il rinforzato, soldi bambino fortunatamente, sei qui per il giorno non perdere l'acqua, prendi l'acqua con il testo buongiorno potremmo un viaggio per l'armi di l'armi è in ordine? buona idea per esempio Cloud hai alcuni folioli sui? sì in questo caso, potremmo anche chiedere una visita a Magnata Books hanno storie all'interno ma il primo è stato costruito qui in Calm e i loro studenti scolari sono davvero talenti se volentieri 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 il gioco che non mi interessa Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Ok, si possono creare degli oggetti. Meno materiali. Grazie a tutti. 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 Wow. Wow. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. 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 Dimentica a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Una armada. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah Buongiorno a tutti. 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 Here we are. Buongiorno a tutti. a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti. Oh. 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 No. Non si butta. Grazie. 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 Qui. Le spalle. Vediamo se me lo metto così. Vediamo. 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo continuando. Non si può salire. Posso salire? Non si può salire. No. 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 Ah Analyse is complete. I managed to extract the necessary data from the crystal. This should allow me to strengthen your materia. Okay, let's go. No. over there it's sephiroth what come on yes 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. I don't see Sephra, do you? No, I don't. Is that dry land I see? Let's go. No, I don't. 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 I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. No, 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 I don't. Oh, I don't. No, 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 I don't.